Venezia è campione d'Italia 2016-2017, la reier del presidente Colombo e di Coach Vidal, protagonista del doppio tricolore 1941-42, 1942-43, non è più sola. 74 anni dopo, l'Umana di Brugnaro, Casarin, De Raffaele e di un gruppo meraviglioso di giocatori consente alla Serenissima di tornare sul tetto della palla canestro tricolore. 81-78 la sentenza di gara 6 al Palatrento in favore dei Veneti che chiudono il barrage di finale contro la Dolomiti Energia sul 4-2, primo periodo senza strappi. A Dejim risponde Ogg, 17 pari al decimo, salgono in cattedra Forrai e Satton. La reier perde diversi palloni, parziale di 14-0 per i padroni di casa che si portano sul più 11. Cresce la difesa degli ospiti, Trento scrive a referto tre punti in quattro minuti, più uno Venezia al diciannovesimo. Nella ripresa i Lagunari sono molto precisi da oltre l'arco e completano il breccone di 34-11 in 13 minuti che vale il più 12 al ventottesimo. Forrai e Satton ci mettono una pezza, 51-56 al trentesimo. Nella quarta frazione, McGee e Dejim sono gli artefici del nuovo più 12, umana. Trento non getta la spugna e rientra a meno uno a nove secondi dal termine. Dejim i punti che mandano in estasi i supporters veneziani. 46% dal campo e 14 su 16 ai liberi per la reier contro il 34% e 25 su 32 degli avversari. 15 con 6 su 7 al tiro per Ejim, 14 e 5 falli subiti per Figlioi, stesso score per Eintz. Dall'altro lato 23-13 rimbalzi e 10 falli subiti per Satton. Il tricolore del basket, torna in Laguna.